Buonasera a tutti, benvenuti. L'incontro di oggi si colloca all'interno di Cibo per Tutti, laboratori itineranti tra cibo e cultura, un progetto che fa parte integrante del dossier che ha permesso a Parma di diventare capitale italiana della cultura 2020. Il progetto è di CSV Emilia, centro servizi per il volontariato di Parma, Reggio e Piacenza ed è in collaborazione con Cibo per Tutti, una rete di 20 organizzazioni del nostro territorio. È sostenuto dal comune di Parma, appunto, ma anche da MUNUS, fondazione di comunità, e dal distretto di economia solidale farmense. Il progetto prevede quattro tappe in quattro diversi paesi con cui l'associazione Cibo per Tutti collabora. L'anno scorso era la volta del Marocco, mentre quest'anno ci focalizziamo sull'Etioppia. Grazie anche alle due associazioni di volontari del nostro territorio che con cui i paesi collaborano, l'associazione Volontari Etiopi di Parma e l'associazione Parma per gli altri. In più, il progetto è sostenuto grazie al progetto Weekend Fase 2 dalla Regione Emilia-Romagna. In questo progetto il Cibo è visto come una lente attraverso la quale leggere le relazioni tra i vari paesi e per scoprire i tratti culturali e sociali che connettono le diverse comunità. Il programma di queste iniziative dunque ha come filo rosso il cibo. Cibo come diritto, cibo come rituale e cibo come contenitore di memorie, che è anche un'occasione di riscatto e di convivialità. Il cibo che allo stesso modo ci differenzia ma che anche ci unisce. Allora io mi presento, mi chiamo Francesca Beccani e sono una consigliera di Parma per gli altri, una ONG che appunto partecipa al progetto Weekend e che da quando è stata fondata, cioè dal 1989, si impegna a realizzare progetti di sviluppo in Africa, soprattutto appunto in Etiopia, nell'ambito dell'istruzione, della sanità e dei progetti di comunità per il raggiungimento della sovranità alimentare. Nei nostri progetti c'è una particolare attenzione rivolta alle donne. Con le donne e per le donne etiopi abbiamo fatto tantissimi progetti, da progetti di microcredito al sostegno delle donne unite nella cooperativa per la lavorazione della cera, a fianco degli uomini che invece si occupano del miele. Sosteniamo le donne della cooperativa di tessitura di Engaggia, lavorando sia insieme a loro ma anche portando qui in Italia i loro tessuti. Sosteniamo percorsi formativi per ragazze che vogliono diventare infermiere e che poi ci aiutano nella nostra clinica a Shalallah e sosteniamo anche le nostre cuoche, che sono delle donne che ogni giorno cucinano per un progetto che si chiama Denutrizione, ossia i bambini nati sotto peso di cui la clinica di Shalallah si occupa tutti i giorni. Però oggi è l'8 marzo, oggi è la festa della donna e proprio di questo tema è l'incontro di oggi dal titolo Narrare le donne in Etiopia per decolonizzare lo sguardo. Io come volontaria di Parma per gli altri sono stata due volte in Etiopia e ho visto proprio con i miei occhi quanto le donne etiopi siano forti e combattive. Noi operiamo soprattutto in piccoli villaggi rurali, per cui la donna diciamo che è il motore dell'economia della famiglia. La donna si occupa dei lavori più faticosi, per esempio va a prendere l'acqua, si occupa del tukul, si occupa dei raccolti, insomma, e si occupa anche della famiglia che in Etiopia è molto numerosa. Quindi noi di Parma per gli altri siamo convinti che il futuro è nella donna, per cui continueremo sempre a sostenerle per valorizzare sempre di più il loro ruolo. Però io adesso lascio la parola alla dottoressa Francesca Velani, coordinatrice di Parma 2020, Parma 2021. Francesca, a te. Ci sono. Buonasera. Grazie Francesca. E grazie a tutti, a CSV Emilia in particolare, e a tutti i partner di questo meraviglioso progetto, progetto perché rappresenta un presidio culturale molto importante in questo momento, per tutta che, anche proprio per la storia del che stiamo vivendo, per la transizione che stiamo vivendo. È un progetto del dossier di candidatura, quindi ci pensate, l'ha scritto nel 2017, nell'estate del 2017. È elaborato e costruito nel 2018 e 2019, è partito con questa grande settimana con il Marocco, tra l'altro nell'anno in cui il Marocco aveva in una delle sue città la capitale islamica della cultura, quindi una coincidenza straordinaria, eravamo partiti anche con un gemellaggio, ci siamo dovuti fermare, ma non per arrestarci. CSV Emilia, così come tanti altri partner di Parma 2020, ci hanno dimostrato che la trasformazione è davvero un elemento fondamentale in questa nostra società di oggi, che la cultura ne è il cibo. Allora, e questo è per me forse il dato più che vorrei sottolineare rispetto a quello che è un po' la riflessione trasversale anche di Parma 2020, ovvero come la cultura rappresenta un cibo per la società di oggi, un alimento, un'energia, che dobbiamo in tutti i modi garantire. La cultura è salute, la cultura ci aiuta ad allungare la vita, ma soprattutto è colore nelle nostre vite. In un momento in cui i colori cominciano a venire meno, siamo molto sulle sfumature di grigio, la situazione, lo sapete bene, lavorate tutti o comunque vi interessate di quello che sta succedendo nella nostra società, ci sono tante situazioni che si stanno aggravando, anche di depressioni, di momenti di scoraggiamento, oltre a situazioni economiche che stanno diventando sempre più critiche. Ecco, noi pensiamo che in questo momento la cultura non deve venire meno. Quindi un progetto come questo, che mette insieme la cultura e l'apertura della visione, in una settimana di riflessione, a cui poi se ne alterneranno altre, diventa ancora più importante. Perché nella nostra identità culturale, nella sua trasformazione, noi possiamo trovare anche l'energia dell'innovazione. Dell'innovazione, quindi le soluzioni per andare avanti, per gli domani. Perché noi in questo momento stiamo facendo questo, cioè noi tutti insieme riflettiamo quotidianamente su come affrontare la transizione che stiamo vivendo. e dobbiamo mettere in campo giorno dopo giorno delle soluzioni. In questo per noi CSV Emilia rappresenta un partner importantissimo, anche nel progetto proprio sulla cultura come cura, che partirà tra poco con un'indagine che lanceremo su quello che è in Emilia Romagna, lo stato dei rapporti tra il mondo della salute, del mondo anzi socio-sanitario e quello della cultura, le progettualità già in pista, e per arrivare a una stabilizzazione dei progetti di questo settore, un riconoscimento reciproco tra il sistema socio-sanitario e quello culturale. Ecco, vi racconto tutto questo perché per me lo spazio politico, l'impegno, la cultura rappresentano, diciamo, dei fattori determinanti nella riflessione sulla democrazia e sulla sua evoluzione. Cultura e democrazia lo sappiamo sono un binomio inscindibile, laddove un territorio ha una partecipazione culturale più ampia, ha una visione di un'identità culturale sfaccettata, è aperta alla trasformazione, a essere attraversata da energie che vengono da territori diversi e che si sedimentano e in qualche modo diventano un unico blocco, ecco, quel territorio avrà un governo migliore, perché saprà rispondere meglio alle esigenze di una società più sfaccettata. Quindi per me momenti come questi sono davvero importanti, sono materiale anche di riflessione, riflessione che ci aiuteranno nei prossimi mesi per scrivere le nuove pagine di questo territorio e non solo, perché uno degli obiettivi che ci siamo posti come Capitale Italiano della Cultura insieme a tutti quelli che partecipano insieme a noi è anche creare dei modelli, delle riflessioni che possano essere date ad altri, ad altre città, che possano diventare un punto di partenza per altri che si stanno ponendo ovviamente di stessi problemi, ma magari hanno meno energia, hanno meno forza, perché naturalmente il titolo di Capitale ti aiuta a mettere tante persone su un obiettivo di riflessione culturale, cosa che sappiamo che spesso purtroppo non accade. Ecco, allora io mettermi in ascolto di questa narrazione di stasera di cui sono, devo dire, molto curiosa e interessata, faccio un atto anche di studio in qualche modo, di ricerca, perché per me rappresenta indagare degli spazi e dei tempi che conosco poco, ma che sono sicura che fanno già parte di noi e che quindi è fondamentale conoscere ed approfondire. Quindi vi ringrazio tantissimo per avermi invitata e per, come sempre, diciamo, anche tenermi sempre con voi in tutte le cose che fate, perché questo, insomma, per me è importante. Grazie. Grazie, grazie Francesca, grazie a te. E adesso invece diamo subito la parola alla nostra ospite, la cantante italo-etiope Gabriella Germandi, che invece ci racconterà di come è cambiato il ruolo della donna dal periodo della resistenza ad oggi. Gabriella, sono qua. Grazie a te. Ecco si interrompe così, buonasera a tutti Allora quello che avete visto era una piccola ripresa fatta nel villaggio d'Orze nel sud Etiopia e quello era un coro polifonico femminile e ho voluto iniziare con quello perché secondo me è molto di impatto Tutte le volte che vedo queste che per me sono delle sorelle penso ma a voi chi è che vi affronta? Chi è che vi minaccia? Perché sono veramente energeticamente molto potenti Sedute così nessuno osa provare provocarle ho visto come loro governano le situazioni e quindi ho pensato che mi piaceva partire così Perché quello che farò stasera sarà una narrazione come si dice in Etiopia Dalla mia pancia alla vostra pancia Un po' una cosa intima che magari non è adatta al web però io so fare solo questo e quindi spero che possa avere un po' il sapore di una narrazione attorno al fuoco Per raccontarvi di come io la mia attività di scrittrice e di narratrice e di cantante come sia al centro di una forma di attivismo che vuole rompere gli stereotipi e portare in evidenza le ricchezze delle mie due terre l'Etiopia e l'Italia Per raccontare tutto questo mio viaggio nel mondo femminile etiope alla ricerca di una serie di tradizioni devo partire da un punto che è quello che mi ha dato il pizzicotto amaro che mi ha fatto partire per dire no non potete fare questo E cioè più o meno nel 2010 in Etiopia la lotteria britannica con i fondi della lotteria britannica hanno finanziato con 4 milioni di pound un progetto per l'emancipazione delle ragazze Un progetto culturale che prevedeva la creazione delle Spice Girls d'Etiopia Una cosa che per me è subito stata allucinante perché parlare di emancipazione innanzitutto questo fatto che parlare di emancipazione vuol dire subito che l'emancipazione viene immediato che l'emancipazione può essere solo quella di un modello occidentale E poi perché l'idea di chiamare le Spice Girls d'Etiopia un gruppo che dovesse parlare di emancipazione che invece porta una serie di stereotipi su come le ragazze devono essere per piacere era una cosa veramente per me terribile E in più perché ho pensato che nella nostra tradizione esistono tanti modelli femminili e mi chiedevo perché i modelli femminili del mio paese non vengono mai messi a disposizione per una crescita Mi sentite bene che ogni tanto vedo delle facce? E quindi partendo da questo fatto per esempio che i modelli dei paesi occidentali che parlano di emancipazione sono modelli di paesi che hanno l'inizio della propria storia epica negli uomini con delle figure maschili Mentre invece per esempio in Etiopia la storia epica d'Etiopia inizia con la regina di Saba una donna E allora voglio iniziare raccontandovi che cosa mi dicevano da piccola sulla regina di Saba Che la regina di Saba era una regina molto ricca e che aveva un impero molto florido E che un giorno un mercante che andava a vendere i tessuti, l'avorio e l'oro d'Etiopia a Gerusalemme Tornò indietro dicendo che a Gerusalemme c'era un re molto sapiente che era Solomone E quindi la regina di Saba decise siccome questo mercante aveva presso la sua corte una grande credibilità Decise di intraprendere questo viaggio per andare a incontrare il re Solomone e sfidarlo nei reciproci saperi Nella Bibbia si parla di quanto Solomone fosse ricco ma la regina del fatto che lui fosse ricco non fregava niente Lei voleva vedere che cosa sapeva e quindi parte in questo viaggio che dura sei mesi E si raccontano tanti indovinelli che si fecero l'un l'altro prima di incontrarsi Per esempio quando la regina arrivò mandò suo padre a portare una pagnotta e una brocca di vino a Solomone E Solomone mandò indietro il padre dicendo la luna non è piena e il mare è in burrasca Allora la regina di Saba disse a suo padre Ah hai mangiato un pezzo della pagnotta e hai bevuto un bicchiere del vino? E erano tutti aneddoti che mi raccontavano quando ero piccola Poi un altro vi voglio anche raccontare di questa cosa che si dice che la regina di Saba Stette tantissimo tempo presso la corte di Solomone Solomone si era innamorato Si sa che si dice che Solomone fosse un gran donnaiolo Però lei a un certo punto gli disse io non sono venuta qua per quello Sono venuta qui per un dibattito culturale Allora lui le disse va bene io non tocco le tue cose se tu non tocchi le mie E questo comprende anche lo spazio fisico il nostro corpo Però si dice che lui una sera l'ha invito a cena e fece una cena piccantissima Speziatissima e le fece togliere tutta l'acqua La notte la regina si svegliò e andò a bere l'acqua dalle brocche dell'imperatore di re Solomone Lui l'aspettava in agguato disse ma tu hai bevuto dalle mie brocche quindi adesso hai toccato le mie cose Da questa storia nacque un figlio che poi è colui che portò l'arca dell'alleanza in Etiopia E che era Menelik I Poi c'era un'altra storia che mi raccontavano se la regina di Saba è una storia che sta tra mito e leggenda Non si hanno reso conti storici tali per cui si possa veramente dire che sia esistito o meno L'altra storia che mi veniva raccontata quando ero piccola era Berci, berci, forza forza vai avanti devi essere come Hendek Hendek era le regine candace del regno di Mero Io non so se voi ne avete mai sentito parlare Sono nominati in un certo punto anche nella Bibbia Allora devi essere come la regina candace che fermò Alessandro Magno perché arrivò al sud dell'Egitto E lei lo aspettò con i suoi eserciti con gli elefanti in piedi su un elefante Alessandro Magno fece due conti e tornò indietro Allora ho sempre pensato che fosse una leggenda Ma quando ho cominciato a lavorare pensando di recuperare storie e modelli Per parlare di modelli di emancipazione femminile a partire dall'Etiopia Sono andata a vedere e le regine candace sono esistite veramente Era il regno di Meroe, un regno che stava tra il Sudan e l'Etiopia E vi dirò delle cose che anche a me hanno sorpreso Innanzitutto queste regine hanno governato dal 730 avanti Cristo fino al 300 dopo Cristo Una di queste che si chiamava Amani Rennes combatte contro i Romani Contro Gaio Petronius, prefetto in Egitto E in una battaglia dove prima vinsero il regno di Meroe vinse contro i Romani Poi ci fu una controffensiva e il regno di Meroe perse e retrocesse Ma poi riuscirono a mandare dei diplomatici nell'isola di Samo Dove stava Augusto imperatore di Roma E riuscirono a firmare un trattato Per cui i Romani accettarono di non avvicinarsi al regno di Meroe Quello che veniva chiamato le terre delle 30 miglia Che era praticamente il sud dell'Egitto Adesso mi viene la parola in inglese Nei testi scritti di storia etiope Si dice che praticamente le regine Candace Anche quando poi il regno di Meroe venne conquistato dall'impero Aksumita Continuarono ad avere dei regni indipendenti E ce ne furono 21 fino al 900 d.C. Quindi per dirvi alcune cose molto interessanti Ma ci sono tante storie di figure femminili importanti E io ho recuperato queste storie pensando che così come facevano le Spice Girls Io volevo fare un disco delle mie donne Perché mi dava così fastidio tutta questa storia Un disco dedicato in primis alla regina di Saba Con il nome etiope che è Makda E così però io non sono brava a trovare risorse economiche Però a un certo punto è successa questa grande magia Che insieme ai colleghi dell'associazione che ho creato Abbiamo fatto un bando migrarti e l'abbiamo vinto E quindi con quei soldi siamo andati in Etiopia A fare tutta una serie di ricerche sulla musica Perché sapevo di un'usanza di un'etnia che si chiama Oromo Arsi Che è dove le donne hanno un bastone che revitano dalla mamma Quando si sposano si chiama Sinke E quando escono di casa con questo bastone vengono viste come delle divinità Un uomo non può guardarle negli occhi se loro hanno questo bastone Tant'è che con questo bastone loro chiamano le adunate E richiedono la parola a tutta la cittadinanza Tant'è che questa tradizione del Sinke è stata usata molto anche per diffondere Le precauzioni da prendere per l'HIV Nei periodi in cui scoppiò alla fine tra il 1990 e il 2000 E fu molto usato Poi un'altra etnia di cui mi piace parlare L'etnia Kunama Che è un'etnia molto legata alla figura femminile Ed è l'etnia di cui vi parlavo l'altro giorno Che quando nasce una femmina Spara sette volte E quando mi nasce un maschio Vanno in giro a pianucolare Perché dicono Ma di questo cosa me ne faccio Tant'è che una ginecologa italiana Che lavora lì e da tantissimo tempo Mi ha detto che quando vanno a partorire in clinica Piangono E lei cerca di convincere E dice Ma no, ma dai Vedrai che qualcosa di buono verrà fuori Poi c'è un'altra etnia Che sono i Dasanets Che stanno proprio quasi al confine col Kenya E loro hanno delle tradizioni di festa Quando a una ragazza vengono le prime mestruazioni E mentre facevamo Che poi siamo partiti per andare in Etiopia A fare questa ricerca Mentre facevamo questo viaggio Siamo andati in un posto dove io andavo da piccola E le ragazze mi hanno cantato un canto Anche lì che loro cantano alla luna piena Adessa golele Adessa golele E dice che praticamente Quando una ragazza viene chiesta in sposa E due volte E dice due volte di no Se viene a sapere che qualcuno la sta per chiedere in sposa Per la terza volta E lei non vuole accettare E esce di notte Quando c'è la luna piena con le sue amiche E canta questa canzone che dice Guarda che io sono la bella dello Shala Ho già detto di no a due Vedi un po' di girare a largo Perché non ho intenzione di dirti di sì E così abbiamo fatto questo lunghissimo viaggio Per recuperare i canti Da trasformare con il nostro gruppo Ezio Dros In brani Che unissero la tradizione E fondessero la tradizione etiope Con la musica moderna italiana Per fare questo CD dal titolo Makedà E chiaramente il primo brano che abbiamo fatto Era dedicato alla regina di Saba Allora adesso voglio farvi sentire questo brano Che racconta del viaggio che la regina di Saba Fece per andare dall'imperatore Solomone E alla fine del brano Mette un pezzo tradizionale di violino monocordo etiope Che si rifà alla tradizione ebraica d'Etiopia Che è una tradizione molto antica Che proprio risale alla dodicesima tribù di Israele Che arrivò in Etiopia Quando la regina di Saba torna indietro Dall'incontro con Solomone Credo Questo brano Ho voluto mettere delle fotografie Buona parte del viaggio che abbiamo fatto Proprio al recupero di questi canti Proprio all'incontro con Solomone 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 e' me la brà ti bello infolli gamm agarè mia levo di bamm un' dò mai t'a nà avgà ballatla il l'à avgà t'amè l'esè c'à t'agrà sò bai di obbio ergà Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Quindi quanto abbiamo insegnato ai bambini che i neri sono sporchi. Secondo, ecco, questa cosa qui che i guerrieri dell'Abissinia sono spariti, ora sono tutti da donna travestiti. È stata fatta moltissima propaganda sul fatto che gli uomini africani sono paurosi. C'erano le cartoline anche dell'epoca dove facevano vedere che quando arrivavano i soldati dell'esercito italiano, i soldati etioti scappavano e invece le donne correvano verso i soldati come se venissero liberate. Il terzo, questo è un quaderno di aritmetica, dice indovinello qual è il creditore? Questo o quello, però intanto le immagini che uno ha all'inizio è che comunque sono tutte e due delinquenti, cioè sia in un'immagine che nell'altra sono dei delinquenti perché sono stati acchiappati. Quindi la risposta è né questo né quello, ecco, sono tutti i delitori. Quindi i bambini venivano cresciuti così, mentre invece vorrei farvi vedere un'altra cosa della differenza tra le cartoline che venivano utilizzate a quei tempi per la propaganda e contrapposte a quella che era la realtà. Quindi farei il primo, ecco, vedete questa cartolina dice schiave a prezzo da convenirsi al mercato mettiamo tanto per uno che poi facciamo a mezzo. In contrapposizione a quella c'è questa foto che è una foto che ritrae una giovane aviatrice, la prima aviatrice etiope del 1936 che si chiamava Mevet Meru. E oltretutto vorrei dirvi che oggi che è l'otto marzo l'Etiopia ha questo abitudine dal 2014 di avere un volo con assistenti, piloti, revisori, ingegneri eccetera, tutto quanto femminile. Ecco, questa è l'immagine del volo dell'otto marzo, grazie. Questa è l'amoretta innamorata e quella sotto è Sini Dugabre. Sini Dugabre era nata nel 1915, era un attivista, ha fatto parte del movimento etiope della resistenza chiamata Black Lion. Nel 1936 è nato questo gruppo di resistenti nella prima accademia militare etiope a Holepa, che è circa una trentina di chilometri da Bissabeba. E lei è diventata combattente, è stata catturata ed ha passato due anni in confino all'isola della Sinara. E quando è tornata indietro, è prima stata direttrice di una scuola femminile, era una scrittrice, scriveva in inglese, francese, tedesco, amarico, italiano. Ha pubblicato dieci romanzi e anche varie drammaturgie per teatro e all'Institute of Ethiopian Studies di Addis Abeba ci sono circa trenta manoscritti suoi che non sono mai stati pubblicati. È stata la prima senatrice del senato imperiale d'Etiopia ed è stata vicepresidente del senato. Era una grande femminista e ha combattuto perché venissero promulgate leggi a favore delle donne. Questo è l'esercito abissino, allegri ragazzi, ecco le donne guerriere. Sotto invece c'è l'immagine di Kabbedech Siyum. Di lei parlo anche nel mio romanzo Regina di fiere e di perle. Lei era la moglie di un principe etiope, due fratelli Aberra e Wondwosen Kassa, figli di Ras Kassa, che erano di una regione, governavano una regione subito a nord di Addis Abeba che si chiama Selale e il generale Tracchia dell'esercito italiano disse ai due fratelli di arrendersi perché altrimenti avrebbe attaccato la popolazione utilizzando i gas. E gli aveva garantito che se si fossero arresi li avrebbe imprigionati ma avrebbero avuto salva la vita. Quindi i due fratelli accettarono per evitare che ci fossero dei massacri della popolazione ma quando poi si arresero vennero ammazzati. Kabbedech Siyum non sapeva che il marito era andato ad arrendersi e il marito aveva lasciato una lettera al cugino e Kabbedech Siyum insieme alla lettera ha ricevuto la notizia del fatto che il marito era stato ammazzato e lei ha deciso di continuare la lotta e ha condotto i 5.000 uomini che erano dell'esercito di suo marito fino al 1939. Quando ha saputo questa notizia era incinta di quattro mesi, ha partorito suo figlio durante la lotta della resistenza, il figlio l'ha chiamato Tariku che vuol dire la storia e quando si muovevano in battaglia i primi mesi lo nascondevano in un cesto di paglia che si usa per portare l'ingera per evitare che lo trovassero perché si diceva che i militari italiani cercassero di trovare il bambino per ammazzarlo perché cercavano di spezzarle i fianchi ecco. Poi un'altra immagine, anche questa vorrei spedire un pacco ad un mio amico questo ricordo dall'Africa orientale e questa, adesso vi faccio sorridere un po' dopo avervi fatto impensierire, si chiama Tion Mikael Andon ed è stata la prima stilista etiope. Questa è una storia molto bella, lei è nata alla fine degli anni trenta e quando aveva circa dodici anni suo papà era di una famiglia benestante suo papà le regalò una macchina da cucire, lei con la macchina da cucire copiando quello che faceva sua mamma per lei e i suoi fratelli imparò a cucire i vestiti per le bambole e divenne così abile che poi a un certo punto cominciò a cucirsi i vestiti per sé ma siccome loro frequentavano la famiglia imperiale a un certo punto i suoi amici, i figli dell'imperatore, i figli di altri nobili cominciarono a chiedere di fare i vestiti anche a loro e a un certo punto cominciò ad avere così tanto lavoro che fu costretta a farsi pagare e diceva era un grande disonore per una ragazza della mia classe sociale farsi pagare però mi faceva lavorare così tanto che cercavo di frenare in quel modo, invece invece di frenare un giorno il suo maestà mi ha mandato una persona dall'ufficio delle entrate per dirmi che era vietato lavorare a casa che dovevo aprire un negozio però come fa una ragazza di buona famiglia a star seduta in un negozio era una cosa impensabile ma i figli di Haile Selassie mi hanno convinto e per aiutarmi a superare la mia difficoltà venivano in negozio e stavano seduti con me nel negozio e venivano tutti i miei amici delle famiglie nobili a passare del tempo con me per aiutarmi a superare questa idea che avere un negozio fosse una cosa fuori luogo per una ragazza della nobilità etiope adesso abbiamo l'ultima immagine questa anche questa è una e a me fa venire un nervoso che non vi posso dire forza Taitù che cominciamo a civilizzarsi questo è venuto bianco l'idea sarebbe che la donna cicciottella col grandiule sia la regina Taitù e l'uomo con l'arancio sia l'imperatore Menelite sotto invece c'è la vera Taitù Taitù era una donna molto odianta in Italia infatti non so se qualcuno se lo ricorda ma quando sono arrivata qui da ragazzina ancora si diceva ma chi ti credi di essere tu Taitù che neanche Menelik la vuole più Taitù si sa che moltissime regine etiopi hanno avuto degli eserciti non si sa delle altre però si sa per certo che l'ultima a entrare in guerra con il proprio esercito è stata la regina Taitù che ha combattuto ad Adwa e che aveva un contingente di 5.000 fanti e 600 uomini 600 cavalieri quello che voglio dirvi è che la regina Taitù era molto contraria al fatto che l'imperatore Menelik intessesse relazioni con l'Occidente e diceva guarda che loro ci fregano guarda che loro ci fregano e fu lei non so se voi sapete come un piccolo aneddoto che poi è il centro della storia della guerra di Adwa tra l'Italia e l'Etiopia fu firmato un accordo chiamato l'accordo in italiano lo chiamano l'accordo di uccialli in Amarico è l'accordo di uccialli in questo accordo è scritto sia in italiano che in Amarico nell'articolo 17 c'era una traduzione diversa da quella che era scritta in Amarico in italiano e cioè prevedeva che per qualsiasi relazioni con l'Europa l'Etiopia accettasse di avere come mediatore l'Italia in pratica accettava di diventare un protettorato italiano mentre invece in quello in Amarico c'era scritto che se avesse avuto necessità avrebbe potuto scegliere di avere come mediatore l'Italia quindi la regina Taitù fece chiamare il conte Antonelli e gli disse che dovevano sistemare questa traduzione e il conte Antonelli gli disse ma noi non possiamo fare questa perché faremo una brutta figura perché noi siamo un paese europeo e la regina Taitù disse beh voi sarete un paese europeo ma siete un paese giovane il mio paese esiste da 3000 anni e non potrà certo permettere che voi decidiate di scrivere una cosa del genere e il conte Antonelli continuò a dire che non si poteva tradurre e lei disse io sono una donna e non amo la guerra ma se questo è quello è la vostra ultima parola allora l'Etiopia entra in guerra con l'Italia e ci fu la battaglia di Adwa quello che vi ho fatto vedere spero che entri nel cuore di ciascuno di voi perché tutti noi dobbiamo capire che ci vuole un percorso decoloniale è che quando viene insultata una persona perché afroindiscendente veniamo insultate anche noi che magari non facciamo niente cioè poi afrodiscendenti io dico noi da tutte e due le parti tanto io sono sempre noi visto che sono allora la cosa che volevo dirvi ci sono alcune cose interessanti rispetto all'Etiopia perché sicuramente l'Etiopia ha molto da fare per crescere riguardo al mondo delle donne però forse è anche qualcosa da insegnare è il paese africano che ha primo presidente donna neanche in Italia metà dei ministri donna neanche in Italia giudice della Corte Suprema donna neanche in Italia il giudice della Corte Suprema è una persona molto interessante che si chiama Masa Shennafi e che è stata quella che ha dato vita alla prima associazione di avvocatesse in Etiopia e Masa Shennafi ha difeso una ragazzina una donna che quando era ragazzina aveva 13 anni venne costretta a un matrimonio precoce e ammazzò il marito e Masa Shennafi è riuscita a farla stagionare e a decretare che sia illegale matrimonio fino a 16 anni l'Etiopia dal 2002 ha una squadra nazionale di calcio femminile con un allenatore femmina e le prime squadre di calcio femminile risalgono agli anni 60 ci sono molti direttori di facoltà che sono donne molte imprenditrici donne tra cui mi piace nominare Bruktawit Tgabu che è una pedagogista che ha creato un cartone animato che si chiama Tgab Girls Tgab in amarico vuol dire sia saggezza che ornamento e anche il nome del ricamo che c'è nei vestiti etioti ha deciso di creare questa serie di cartoni animati insieme a sua figlia per parlare della femminilità per combattere i matrimoni precoci e ci sono tre eroine in questo cartone animato che una è la veggente e l'altra è la resistente forte e la terza è con lei che ha la sapienza interiore e sono le tre supereroine che vanno in sostegno alle ragazze quando hanno dei problemi o quando vengono spinte verso matrimoni che loro non vogliono accettare poi vabbè ci sono tante altre cose che potrei dirvi ma adesso lascio lo spazio se qualcuno ha delle domande grazie in amarico c'è una cosa che si dice quando qualcuno ha parlato tanto avarrao at effao cioè ho acceso la luce o l'ho spenta perché in amarico quando uno parla troppo si chiama, si dice le bader secca cuore perché uno che ti parla troppo ti sta proprio qua sul petto e allora per sapere se hai seccato il cuore a qualcuno dici è ancora accesa la tua luce o è spenta allora vi chiedo se la luce è ancora accesa spero di non avervi stufato troppo no, la luce è super accesa anche perché sono sempre storie molto molto interessanti sia quando racconti di tradizioni ma anche quando appunto ci hai fatto questi paragoni col passato è sempre molto interessante mi chiedono mi chiedono hai la mamma etiope o il papà etiope Gabriella la mamma guarda io provo sempre a cantare la canzone che mettiamo all'inizio ma devo dire che è molto difficile però mi diverto è molto carina quello è un canto di guerra ed è un canto perché nella tradizione etiope esiste questa cosa dei cavalli cioè si racconta della storia dei guerrieri attraverso il nome dei loro cavalli e nei libri di storia che si studia ancora oggi in uso nella scuola etiope quando si parla dei grandi condottieri c'è sempre il cavallo del condottiero e il cavallo del condottiero ha spesso una qualità del suo cavaliere quindi padre abbacostar padre arrabbiato padre per esempio Haile Silassi aveva un cavallo che si chiamava padre tieni tutto assieme è stato fatto un film molto bello sulla storia dell'adolescente che ha ammazzato il marito è vero lo abbiamo fatto arrivare a Parma e proiettato al cinema Edison come associazione quattro anni fa proprio perché è un film bellissimo e che ha segnato secondo noi, secondo me davvero un peso diverso nella situazione dell'Etiopia e per me è stato credo qualcuno mi chiede se di queste storie farò una pubblicazione oltre che la raccolta nel CD non lo so, questo fatto di mettere assieme tutte le storie di queste donne è una cosa che sta un po' fiorendo adesso negli ultimi tempi perché penso a cosa bisogna fare per cercare di liberarci dallo stereotipo e ho pensato che mettere assieme queste immagini fosse di grande effetto vi auguro di farlo, sarà molto molto interessante secondo me io a questo punto direi che ringrazio tutti tutti voi che avete partecipato ringrazio Gabriella che ci ha raccontato un sacco di storie molto interessanti vi do l'appuntamento per domani dalle 15 alle 18 e il titolo dell'incontro di domani sarà movimenti e reti alimentari contadine per la sovranità alimentare quindi vi aspetto domani alle 15 e si chiuderemo e si chiuderemo e si chiuderemo e che vi all'anno si chiuderemo e ci niente e